Marco è una persona molto estroversa, è simpatico, pure Francesco abbastanza preciso e metodico nel modo di fare le cose. Io e Marco ci siamo conosciuti al CSM, abbiamo avuto anche modo di incontrarci in giro per Latina. Un'amicizia che continua fuori dall'aula. Questo corso è la patente europea del computer, nuova CDL, si basa su quattro moduli, computer essenzial, online essenzial, world SL. Sono una persona responsabile, mi occupo della casa, della macchina, sono fidanzato, ci piace passeggiare al mare e mi dà un senso di libertà. Preferisco la montagna, di solito solo il calcio lo seguo, della Lazio, la grande, mi sono laureato. Mi piace sempre imparare cose nuove, frequentare posti nuovi, anche se sono una persona che sta parecchio tempo chiusa in casa. Quando esco di casa parto, vado fuori città, vado all'estero. Ho passato un periodo brutto della mia vita, in cui bevevo moltissimo, non mi curavo. Il periodo in cui ho iniziato a vivere da solo, mi sono sentito un po' oppresso, che tutti ce l'avano con me. Avevo dei brutti rapporti con i familiari. Molto spesso sobbivo i bisogni di bullismo a scuola. Poi, dopo, quando mi sono preso il diploma, ho iniziato ad andare all'università, a Roma, e lì è iniziata un po' la mia vita, di fiorire. Ho cercato di uscirne fuori con la volontà, svegliandomi la mattina e dicendomi che bisogna andare avanti, che è una cosa da superare, che la vita è bella, non va sprecata, anche con dei problemi psicologici. Bisogna reagire, no? Il percorso della terapia l'ho iniziato cinque anni fa. Il percorso con il Centro Salute Mentale di Latina è andato migliorando la situazione. I miei rapporti con i miei genitori, dieci anni fa burrascosi, adesso sta andando meglio, ho smesso anche di bere birra. E poi ho avuto questa grande possibilità di fare questo corso per la patente europea per il computer, nuova CDL. Questo corso va a conseguire una patente europea del computer che puoi utilizzare per uno scopo lavorativo, mettere la tua curriculum e far vedere una cosa in più. Quando hai la patente europea per il computer ti si aprono altre porte, hai la possibilità di lavorare anche in ufficio. Lo consiglierei moltissimo. Una buona scuola, io la consiglio perché... Se tu sai usare il computer però non hai la patente europea del computer, le possibilità del lavoro si riducono a zero. Il futuro per me è tutta una scoperta. Vedo il mio futuro abbastanza positivo, bisogna sempre credere nelle proprie possibilità, trovare dei spiragli per migliorarsi. Il mio futuro deve essere costruttivo. Il futuro abbastanza positivo, bisogna sempre credere nelle proprie possibilità. Grazie a tutti